Ciao a tutti ragazzi, oggi andiamo a toccare un argomento abbastanza delicato perché quando si parla di Massimiliano Allegri sappiamo che andiamo a dividere un po' l'opinione chi perché lo ama in maniera assoluta sia perché chi lo odia in maniera assoluta poi ovviamente spero che l'amore e l'odio siano sempre solo calcistici che non vadano a sfociare in sentimenti verso la persona o che escano dal campo da calcio quelli comunque sono affari di queste persone io ovviamente come sempre cerco di dare un mio giudizio rispetto al lavoro degli allenatori, dei giocatori, dei dirigenti rispetto a quello che mostrano, che dimostrano, che fanno vedere e di come poi si approcciano alla Juventus e di come cambiano in meglio o in peggio la Juventus perché faccio questo video oggi? perché come ben ricorderete l'anno scorso io arrivato a questo punto della stagione comunque ero ben saldo in cima al carro Andrea Pirlo non ero assolutamente ancora arrivato a espormi a dire guardate io in questo momento andrei a cambiare allenatore e quindi la stessa cosa al momento la sto pensando per Massimiliano Allegri però bisogna mettere tutti i pezzettini uno davanti all'altro e cercare di incastrarli a creare la figura del puzzle, quella che c'è sulla scatola iniziamo alla fine è un discorso di fiducia e ve lo ripeterò sempre quello su cui mi baso io per cercare di capire se andare avanti oppure no con un allenatore è la fiducia nei suoi confronti e ve lo dice uno che non ha mai nascosto il fatto che Sarri non gli piacesse Sarri non mi piaceva ve l'ho sempre detto vi ho elencato anche tante volte le cose per cui Sarri non mi piaceva non a livello comunicativo non sto parlando del fattore estetico della sigaretta, della tuta quelle le lasciano da parte perché uno che basa l'operato dell'allenatore della Juventus su quella roba lì riempite voi la frase non voglio essere cattivo però c'erano delle cose che non mi piacevano effettivamente su quel Maurizio Sarri come l'anno scorso a un certo punto vi dico ragazzi per me Andrea Pirlo non può essere l'allenatore della Juventus l'anno prossimo mi sono rimangiato questa cosa? assolutamente no perché sono sempre stato onesto e coerente con il ragionamento quando vado a dirvi secondo me Andrea Pirlo non può più essere l'allenatore della Juventus però sottolineo una cosa più importante e cioè che non è tutta colpa di Pirlo non è che cambiando Pirlo mettendo un altro allenatore hai risolto tutto è la cosa più sbagliata del mondo e invece io ancora tuttora tutt'oggi continuo a leggere commenti del tipo Allegri è l'unico problema della Juventus come l'anno scorso Pirlo è l'unico problema della Juventus come tre anni fa Sarri è l'unico problema della Juventus poi c'è un discorso anche più ampio da fare inerente a quelli che sono gli obiettivi stagionali ma gli obiettivi stagionali in base a che cosa li fai? io ti dico in base alla squadra facciamo una panoramica generale in questo momento la Juventus di Allegri potrebbe ancora eventualmente vincere lo scudetto certo perché matematicamente lo può fare poi bisogna mantenere i piedi ben saldi per terra perché sennò stiamo raccontando magari una favola magari quando ero anche un po' più giovane quando avevo qualche anno in meno e quando la Juventus era anche nel periodo storico positivo dei nove scudetti di fila si credeva anche un po' di più e si pensava sì si vince perché noi però non è così come la Champions ce l'ha dimostrato tante volte non è che si vince perché noi no per vincere te lo devi meritare e per meritarti lo devi lavorare sul campo e per questo bisogna sempre rispettare il lavoro degli allenatori e poi una cosa può piacere o non piacere come l'altro giorno no quando mi sono rivisto uno spezzone di BoboTV e Cassano continuano a dire questo è scarso questo fa schifo sembra un po' come quando parli ai bambini che gli dici non è che fa schifo è che non ti piace che sono due cose diverse avete presente quando un bambino mangia una cosa e dice fa schifo il genitore gli dice non è che fa schifo è che non piace a te e a me non sono piaciute tante cose dell'operatore Sarri ma per quanto non mi piacesse sarei andato avanti con Sarri avrei dato continuità al progetto Sarri avrei costruito un mercato su Maurizio Sarri su Andrea Pirlo no perché arrivati a un certo punto mi sono reso conto che non c'era quel pugno per gestire al 100% uno spogliatoio così complicato ma dicevo anche che ero convinto che avremmo visto Pirlo allenatore di grande livello nel giro di qualche anno in quel momento lì non era la persona giusta adatta per allenare la Juventus quella Juventus quello spogliatoio non dimentichiamoci mai però che quando Sarri arriva lo giudichiamo sul fatto di avere una Juventus che vinceva da 8 anni a quella parte poi Sarri è bravo a vincere il nono che allontanava il precedente allenatore che aveva sempre vinto aveva sempre anche fatto ottime cose in Europa con Cristiano Ronaldo al secondo anno di progetto per cercare di vincere ancora e meglio quindi poi il ragionamento la valutazione aveva fatto su quella roba lì e quando arrivi a fine anno il gusto di mare in bocca ce l'hai per come sia conclusa poi lì purtroppo ragazzi vicenda Covid ha un po' lasciato il mondo in ginocchio Juventus compresa e stiamo vedendo che adesso lasciatemelo dire poi ditemi quello che volete populismo discorso vario però lasciatemelo dire che non ne ho mai parlato non ho ancora detto niente ma questa storia della procura di Torino che inizia un'indagine prisma prime pagine plus valenze valori dei giocatori libri contabili andiamo a valutare quanto vale un giocatore e quanto vale un quell'altro prime pagine dei giornali lo scandalo lo scandalo lo scandalo entra le altre squadre zitti mutti non se ne parla più non se ne parla più l'indagine termina finisce con i magistrati che fanno l'asta del fantacalcio dicendo no Rovella non vale 10 vale 1 Audero non vale 7 vale 3 sto facendo i numeri a caso e mettono a posto loro i valori mercato in base a che cosa non si sa perché non è di loro competenza e una volta che siamo arrivati a questa conclusione che non c'è niente o c'è tutto per tutti che cosa succede andiamo a fare le pulci le pulci sulla Juventus che durante il covid chiede una riduzione degli ingaggi da parte della squadra cose che hanno fatto anche altri e la vicenda si sposta su un binario totalmente opposto e si vanno a intervistare i calciatori gli ex calciatori i dirigenti si vanno a intervistare i procuratori questo sembra il classico episodio in cui si cerca qualcosa che magari non c'è come la carta di Ronaldo perché qua ce la siamo già dimenticata magari non esisteva ma intanto cerchiamola perché se salta fuori qualcosa è ingompromettente possiamo sempre usarla contro la Juventus qua stanno mettendo a suo quadro stanno ribaltando tutto tutti gli uffici di Torino perché qualcosa magari viene fuori perché si è rotti le palle della Juventus anche quando non vince chiusa parentesi però il Covid per forza di cose ha distrutto quella che era l'idea della Juve e della Juve di Sarri e del momento in cui la Juventus stava anche andando in una certa direzione sul mercato e cioè cercava di migliorarsi a suon di milioni e infatti al termine della stagione stagione che secondo me senza Covid non sarebbe stata trionfante nello scuetto perché per quanto mi riguarda lo scuetto l'avrebbe vinto la Lazio e non me lo toglierà mai nessuno dalla testa questa cosa con la Lazio che giocava una volta settimane e basta poi è dovuta andare a giocare tre volte a settimana come tutte le altre squadre quindi quella Lazio non sembrava volersi fermare però a fine stagione Agnelli stesso presidente della Juventus dice ragazzi a questo punto abbiamo la necessità di non proseguire il percorso che avevamo iniziato e serve un percorso più sostenibile in cui abbassiamo gli ingaggi e ci si era resi conto che quegli ingaggi non erano più sostenibili proprio durante la pandemia proprio durante la richiesta di taglio gli stipendi e soprattutto con giocatori non più sulla Trentina faccio un esempio clamoroso su tutti Higuain che viene acquistato a 28 anni per 90 milioni di euro e Higuain fa due stagioni fondamentali fantastiche alla Juventus poi si cambia il focus il target Cristiano Ronaldo è lì e sul mercato lo prendi per forza perché per fare il passo successivo lo prendi e allora l'investimento di Higuain di 28 anni che nel frattempo ne aveva 30 si è abbassato un anno di prestito tra Milano e Chelsea un anno di ritorno alla Juve perché non riesce a venderlo da nessuna parte e poi la recessione consensuale per farlo andare a giocare in America in MLS tra l'altro aperta parentesi ringrazio Higuain e sono veramente felice di averlo visto giocare alla Juventus ieri ha annunciato il ritiro a fine stagione quindi un grosso un boccalupo un grosso abbraccio al Pipita che è uno dei giocatori che più mi sono rimasti nel cuore in assoluto di questo ciclo Juventino però poi quel progetto Juve che non era più basato su Higuain ma su Cristiano Ronaldo è andato a infrangersi pure lui e infatti dopo iniziano ad acquistare dei giocatori che possono essere futuribili e quindi rivendibili come Federico Chiesa che poi purtroppo anche qua ragazzi guardate quanti purtroppo perché la Juventus inizia un percorso e poi succedono cose il Covid gli infortuni e quella ed è uno dei motivi per cui non va a rinnovare Paolo Di Bala e l'anno dopo con Pirlo comunque Pirlo c'ha in mano una squadra che da nove anni a quella parte vinceva lo Scudetto che aveva iniziato il trasferimento verso una nuova dimensione una nuova rifondazione perché a certo punto i cicli finiscono per quelle squadre lo stesso Massimiliano Allegri prende in mano una Juventus molto simile a quella dell'ultimo conte l'anno dopo deve rifare tutto da zero e poi gli fanno un mercato ancora da zero proprio perché si avvertiva la necessità di cambiare poi da quel mercato di Cardiff in poi magari ci si ferma un attimo si ragiona si inizia a fare una squadra più basata su quello che c'è fino a poi appunto a rifondarla nuovamente però ci si era accorti ci si era accorti che non era più sostenibile la baracca Juventus e Andrea Pirlo va a pagare anche per colpe non sue perché è ovvio che nel momento in cui dai fiducia a un allenatore esordiente che non aveva mai giocato che è stato uno dei più grandi calciatori della storia del calcio quindi di calcio se ne intende ne mastica che parte anche con un'idea abbastanza interessante forse troppo difficile da attuare se non aveva mai avuto esperienza troppo difficile da attuare di punto in bianco così e tante colpe di Pirlo ci sono ma lo ribadisco come dicevo all'inizio non sono tutte colpe di Pirlo venirmi a dire Pirlo è l'unico colpevole signori allora io faccio sempre questo esempio andate a giocare a Cluedo se dovete trovare il colpevole l'assassino andate a giocare a Cluedo perché non può esserci un solo colpevole perché il calcio è il gioco di squadra si gioca in undici ad oggi più cinque sostituzioni e comunque quelli che non entrano in panchina ma si allenano fanno parte della squadra così come l'allenatore il viceallenatore i dirigenti lo staff se vince si perde tutti insieme sempre sempre ed è per questo che forse sono abituato a riconoscere tanto alle vittorie e non essere così distruttivo nelle sconfitte tutta questa pappardella per dirvi che alla fine la Juventus del Legri non potrà mai questa Juventus del Legri non potrà mai andare a fare quello che ha fatto la Juve di Piro l'anno scorso che è stata la stagione peggiore degli ultimi dieci anni della Juve e questa per forza di cose diventa la peggiore degli undici per forza di cose per forza di cose è scontato dirlo ieri lunedì Adani ha detto non lo dice nessuno ma è logico c'è una Juve che negli ultimi nove anni undici anni ha vinto nove scudetti nel decimo arriva quarta e fa due trofei Coppa Italia e Supercoppa nell'undicesimo spero che arrivi quarta a questo punto perché comunque da dietro spingono e spero che vinchi la Coppa Italia la Supercoppa l'ha già persa quindi quest'anno benché vada ti fai quarto posto e Coppa Italia avresti mai pensato una roba del genere? e allora qui il discorso ma come l'anno scorso Pirlo esonerato per e Allegri magari con questo bottino confermato io ve lo dico già adesso perché lo so che arriveremo alla fine del campionato e questa frase la sentiremo tanto io ve lo dico oggi che è il 6 di aprile ma la sto pensando ragionando da tempo avevo fatto anche un video qua sul canale con Davomi in cui cercavamo di ragionare a voce alta su questo argomento e vi dico una cosa non focalizzatevi solo su questo perché la Juventus non farà più una valutazione su questa cosa no la Juventus farà una valutazione più ampia intanto la Juventus è andata all in su Massimiliano Allegri non Juventus società Juventus dirigenza da come è composta da il presidente dal vicepresidente e dai nuovi dirigenti che sono stati messi lì proprio da queste figure e quindi loro hanno il dovere di aiutare Massimiliano Allegri perché Massimiliano Allegri è stata la loro scelta è stata la loro salvezza la loro ancora di salvezza nel momento in cui ti ritrovi a capire che il cambiare troppo alla svelta come era stato con Sarri è il buttarti sul nuovo come era stato con Pirlo due scelte forse troppo audaci una per la persona Maurizio Sarri che non si incastrava con la Juventus per ammissione dello stesso Maurizio Sarri uno per competenze attuali Andrea Pirlo e allora torniamo indietro torniamo all'antico torniamo al certo quel certo è Massimiliano Allegri che ha fatto cose straordinarie con la Juventus negli anni che era stato allontanato perché non era più sufficiente vincere in quel modo bisogna vincere in maniera migliore poi parlo da super sostenitore di Allegri da persona che lo ritiene capace perché anche quando leggo che Allegri è un allenatore incapace torniamo al discorso di prima non ti piace come allenatore non si può considerare incapace un allenatore col suo palmaresse cioè è proprio un ossimoro non può essere poiché possa non piacerti questo è tutto un altro discorso ma cinque anni fa quando è stato non mi ricordo tre anni fa quando Allegri viene allontanato ci sta si conclude un ciclo e si parla sempre di obiettivi lo ribadisco gli obiettivi sono legati alla squadra quella squadra che stava super dominando con anche Cristiano Ronaldo che viene da tre Champions in tre anni quattro Champions in quattro anni quattro Champions in tre anni non mi ricordo ormai ne vinte così tante che e non riesce nemmeno a fare quello step successivo e anzi fai peggio rispetto a quando non c'era Cristiano Ronaldo allora la società si fa delle domande ma così facendo così continuando è questo che dobbiamo cambiare dobbiamo cambiare la squadra Allegri ritorna tre anni dopo la dimensione di Juve è completamente ridimensionata non dimentichiamoci mai mai che Sarri vince uno scudetto per un punto ed esce aiutavi Ronaldo Pirlo arriva a quarto all'ultima giornata e vince due trofei Coppa Italia e Supercoppa che Sarri aveva perso entrambe le finali con Ronaldo quando arriveremo alla fine di questa stagione e magari arriveremo quarti e spero almeno con la vittoria della Coppa Italia spero perché ormai questo è il massimo raggiungibile per quanto mi riguarda l'avremmo fatto senza Cristiano Ronaldo senza con una Juventus tutta da ricostruire ricordate che all'inizio vi parlavo di pezzi del puzzle sparsi qua e là era la Juventus non so se vi ricordate le prime partite della Juve non eravamo squadra eravamo un gruppo di giocatori missi lì e quando il capitano della Juventus parla con uno degli allenatori più vincenti della storia della Juve alla seconda giornata di campionato e ci si dice questi sono non avete idea della gravità della frase di Chiellini in quel momento ma era la verità in quel momento quelli eravamo e non potevamo ambire a nulla di più forse ci si dimentica troppo in fretta nello sport perché giustamente mi viene da dire c'è questa continua volontà di guardare avanti ma noi dopo quattro giornate eravamo penultimi in classifica in Serie A penultimi dopo quattro giornate fino a gennaio dicembre sembrava impossibile entrare in Champions l'altra sera con l'Inter perdi una partita dove se la vinci vai al terzo posto davanti ai campioni d'Italia in carica dove loro fanno una partita vergognosa perché non ci sono stati in campo e tu hai dominato dall'inizio della fine poi qua apro una parentesi perché in tanti mi hanno detto quella partita non è stata dominata quella partita la Juventus ha tirato in porta due volte tre volte quattro volte è la partita perfetta la fotocopia di Juventus Atletico Madrid quando una squadra entra in campo con quella grinta quella voglia quella padronanza quella superiorità quando ti dimostra la superiorità per me domina domina e infatti quando ieri ho sentito l'analisi di Bobo Vieri Bobone l'avrei abbracciato perché tutti che dicevano ma Mimo Bobone secco l'Iventus è dominato dall'inizio alla fine l'Inter non c'è stata se doveva vincere una squadra era la Juve poi ribadisco ieri ho condiviso anche tanto le analisi che hanno fatto alla Bobo TV dico sempre ieri ma perché io l'ho ascoltata ieri ho condiviso tanto forse al 90% con tutti rispetto a Cassano che è sempre con la voce fuori dal coro che è un po' troppo però la partita secondo me è stata a senso unico poi anche qua può non piacere perché magari c'è qualcuno che come standard di partita si aspetta non lo so io non ho visto la partita per chi riesce a giocare ma che si aspetta il Manchester City che fa l'80% di possesso palla che fa 7 tiri in porta una roba del genere ma la Juventus uno non è costruita per essere così due non è allenata per essere così perché non c'è la volontà di renderla così e quindi io guarda mi basterebbe vedere sempre una Juventus con quella grinta con quel fuoco negli occhi un rabbio che corre il triplo di Barella che lo recupera in progressione che lo distrugge se lo mette in tasca questo mi basta questo questo è il resto poi il risultato può venire o non venire ma quando dai tutto in campo ma chi se ne frega perché in tanti mi dicono tu sei risultatista sì lo confermo io sono risultatista perché il risultato è una cosa che guardo l'altra sera abbiamo perso e per questo ero deluso ma abbiamo fatto una gran prestazione l'altra sera ma io sono un risultatista sporco perché per me la prestazione è importante è importante perché se no ci metteremo qui a dire lei 21-21-0 bene e spegniamo il video e invece diciamo le cose che sono andate le cose che non sono andate le cose da migliorare le cose in cui siamo bravi le cose in cui siamo meno bravi perché il calcio va analizzato a 360 gradi per me la prestazione è importante rimarrà sempre importante ma se dovete far scegliere tra la prestazione e il risultato non si scappa perché se la prestazione è importante il risultato è ultra mega giga iper importante perché è quello che fa andare avanti il calcio e tante volte mi dicono sì però non vedi che la Fiorentina il Sassuolo l'Empoli giocano meglio di noi sì ma la Fiorentina il Sassuolo e l'Empoli possono fare 40 punti a fine anno e nessuno chiede la testa dell'allenatore dei giocatori e dei dirigenti perché gli obiettivi sono quelli e quindi magari ti fanno le partite fatte bene c'è anche quella partita che venga 3-4-0 poi c'è quella partita che dall'ultima in classifica magari ne prendono due e c'è la Starzetti perché comunque l'importante a fine anno è fare un certo ripro di percorso e la Juventus volente o non lenti ragazzi quest'anno ha fatto un percorso da quarto posto perché se siamo lì ce lo meritiamo e vi dico ce lo meritiamo nel senso che in tanti stanno dicendo no se lo merita l'Atalanta no non se lo merita l'Atalanta come non se lo merita la Roma non se lo merita la Lazio non se lo merita la Fiorentina se lo merita la Juventus per quello che si è dimostrato per i punti che si è messi insieme se lo merita la Juventus se lo merita la Juventus perché nel calcio il merito passa dalla vittoria passa dal risultato ed è vero che l'altra sera la Juventus meritava di vincere ma se ha vinto l'Inter è perché ha meritato l'Inter perché non esiste questa cosa del se meriti vinci non esiste non esiste nessuno tutti gli allenatori inseguirebbero quella formula lì se esistesse un modo di mettere in campo i giocatori che non so un modulo o un atteggiamento o un tipo di gioco che al 100% scientificamente ti assicura di vincere seguendo quella linea tutti gli allenatori andrebbero in campo tutti i santi giorni ad allenare i giocatori seguendo quel modulo seguendo quel principio non c'è non c'è e il calcio è fenomenale è fantastico per questo perché la Macedonia può battere l'Italia campione d'Europa 1-0 al novantesimo non facendo un tiro in porta perché se l'Italia nelle 30 occasioni che ha non butta dentro la palla per quanto meritava perché ha mostrato di più è stata padrone del campo merita anche di andare a casa perché noi siamo abituati al merito sulla prestazione che ribadisco è importante perché attraverso le prestazioni arrivano i risultati ma la prestazione l'ha fatta anche la Macedonia arrivando 0-0 al novantesimo tirando in porta a caso e facendoci gol perché se non fai quella prestazione lì la Macedonia ne prende 5 e quel gol è quello del 5-1 iniziamo ad abituarci che ci sono prestazioni e prestazioni poi tornando al discorso di Allegri io ad oggi confermerei Allegri per una seconda stagione perché mi sono anche stancato di dover cambiare allenatore anno dopo anno e intendiamoci quelli che tante volte no Allegri se ne deve andare perché sì ma tu non rispondi a niente a nessuno la Juventus se esonera Allegri che gli ha fatto un contratto di 4 anni e qui sono bravi o deficienti mettetecelo voi 4 anni a 8 7 9 milioni all'anno ma gli altri 3 anni con quello stipendio lì ma chi glieli paga per stare a casa ad Allegri come è stato l'ultimo anno perché tu Allegri hai esonerato l'anno di Sarri hai pagato a Sarri Allegri due allenatori avevi 15 milioni di euro di monte ingaggi per gli allenatori di cui solo uno allenava e guadagnava più quello che non allenava che quello che allenava chi glieli paga gli altri 3 anni e chi vai a prendere perché anche qui c'è scritto da qualche parte che esonerando questo allenatore poi mettendocene un altro tornerà a vincere no non c'è scritto nessuna parte un altro salto nel buio è l'ennesimo salto nel buio poi te lo ribadisco ad oggi penso così e ritengo giusto andare avanti un altro anno con Allegri ma la fiducia di Allegri e ribadisco sempre che quando parlo di Allegri parlo dell'Allegri di questa stagione qui che non mi ha convinto al 100% no non sono convinto al 100% di questo all'Igman e anche al 70% probabilmente ma la fiducia c'è ancora e voglio vedere come conclude l'anno perché se l'Italia poi due volte esce dal mondiale due volte esce dal mondiale e non ci va se tre anni la Juventus esce agli ottavi di Champions se due anni la Juventus mi arriva quarta significa che l'Italia non è pronta per andare al mondiale per due anni significa che la Juventus per tre anni non è pronta per andare ai quarti significa che per due anni la Juventus non è pronta ad andare oltre al quarto posto allenatori non allenatori cambiando gli allenatori mantenendo gli allenatori e quindi io ad oggi sono per la permanenza di Allegri per dare continuità al progetto ma attenzione non è definitiva questa cosa non è definitiva perché ve lo dico oggi che è il 6 di aprile adesso Allegri però deve dimostrarmi come finisce l'anno perché anche l'anno scorso con Pirlo il 6 di aprile ero per Pirlo in poi arriviamo a fine aprile dove la squadra degenera Pirlo perde completamente il controllo della squadra e dico oi oi non dimenticatevelo mai ieri ho fatto un reel forse due giorni fa un po' simpatico sui risultati di Juventus Villareal Italia Macedonia Juventus Inter dove abbiamo perso tutte e tre le gare non dimenticatevelo mai che quelle lì sono le gare della svolta sono le gare che se le vinci la stagione prende una direzione se le perdi come purtroppo è accaduto ne prende tutta un'altra perché con quelle tre gare lì hai detto adió la Champions hai salutato il Mondiale e ti sei rassegnato di fronte a uno scudetto nel quale non entrerai in lotta nemmeno quest'anno perché vincendo l'altra sera e con il Milan che pareggiava entravi dentro l'altra scudetto lo metto per scritto ma l'avevo già detto se uno tra Milano e Napoli non vince e la Juve vince sei dentro l'altra scudetto 100% invece oggi non ci sei perché nel momento decisivo della stagione non sei riuscito a raggiungere risultati e questo fa poi la differenza a fine anno sulle valutazioni di squadra e di allenatore perché l'allenatore poi il gestore è il capo della squadra il mister è il capo della squadra ed è quello che deve cercare poiché per la Juve si esca con due delle migliori prestazioni dell'anno dove tante volte hai fatto prestazioni peggiori a livello di convinzione a livello di padronanza del campo e comunque le hai portate a casa questo è tutto un altro discorso un altro capitolo forse anche un discorso carmatico un discorso simpatico nei confronti del personaggio che si è costruito Massimiliano Allegri perché ve lo dico proprio fuori dei denti tante volte il personaggio di Allegri è un po' stagnante ai miei occhi un po' come il personaggio di Adani perché di personaggi si sta parlando non più di persone non più di allenatori non più di personalità ecco non più di personalità ma di personaggi poi finisce la partita e come io avevo criticato Allegri aspramente dopo il Villareal per le parole in conferenza fai lo giato per quello che ha fatto l'altra sera ed è per questo che l'altra sera ho detto sono orgoglioso di Allegri che è davanti alle telecamere dopo una partita del genere mi dice quella roba lì e quando ho sentito Inzaghi ragazzi mi sono venuti peli dritti lunghi con il braccio non così ma che uscite sono quando vinci a Torino dopo 11 anni ma che uscite sono quando vinci una partita che ti riproietta nella lotta a Scudetto una partita dove ti è andata bene ma che parole sono ma stiamo scherzando stiamo dicendo davvero ma il rispetto nel calcio deve essere la base di tutto la componente principale e se tu mi vai a fare un post partita del genere sei completamente irrispettoso come era stato completamente irrispettoso Allegri dopo il Villareal e Allegri aveva perso e tu hai vinto ma c'è distanza c'è differenza scusate tanti pensieri a voce alta partendo da un solo argomento cioè chi sarà allenatore della Juventus l'anno prossimo ve lo rivadisco secondo me sarà Massimiliano Allegri giusto o sbagliato per me è giusto ad oggi dare un altro anno continuità al progetto per vedere dove si va a parare che perché non dimentichiamoci mai che questa Juventus ragazzi si è evoluta nel tempo inizia con Ronaldo poi proseguo con Kena adesso c'è Vlaovic nel frattempo si rompe chiesa poi Di Bala non rinnova abbiamo fatto una stagione che io non ho mai visto una stagione così travagliata mai visto una stagione così travagliata così in evoluzione così in modifica in cambiamento in evoluzione durante l'anno non l'ho mai vista è quello che verrà è quello che verrà perché adesso mi attendo gli annunci di Bernardeschi che non verrà rinnovato di forse De Sciglio e Quadrado che verranno rinnovati insieme a Perin e poi si andrà sul mercato e si cercherà di costruire una nuova squadra e sono curioso sono curioso di capire questo ennesimo progetto questa ennesima ripartenza ennesima rifondazione l'ennesimo inizio ciclo Juventino dove andrà a parare che poi sarà Massimiliano Allegri non sarà Massimiliano Allegri non lo so io penso che sia abbastanza logico presupporre di avere Allegri in panchina anche l'anno prossimo proprio per quello che vi ho detto prima Allegri ha 4 anni di contratto e quando fai 4 anni di contratto è perché sei convinto di voler andare avanti con quella persona se no è l'ennesimo punto zero ripartenza gestione dubbiosa di una società che negli ultimi anni purtroppo ha sbagliato e tanto niente queste sono un po' di considerazione fatemi sapere anche un po' le vostre qui sotto nei commenti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti